Musica Fiera di Bolzano, siamo nell'ambito di hotel, una manifestazione dedicata a tutti quelli che sono i servizi per noi consumatori quando utilizziamo l'hotel. Quindi non solo dalla prima colazione ma anche le attrezzature, ma anche le magnifiche spugne e tutti quei gadget che ci piacciono tanto. Alle mie spalle i panificatori perché ricordiamoci che questa regione riguardo al pane ha una lunga tradizione. Musica Siamo ad Autoctona, il salone dei vini autoctoni italiani, sono tanti, sono molti, sono interessanti, non manca nessuna regione italiana, abbiamo anche assaggiato il Moscato di Scanzo che è la più piccola docca italiana e assaggeremo presto il La Grain che è il tipico vino di queste zone. Musica E da Autoctona non mancano le scuole alberghiere, abbiamo la scuola professionale alberghiera Ritz di Merano con le varie specialità, dalle specialità di formaggio a quelle di pesce e soprattutto il magnifico lavoro di verdure intagliate. Musica E dopo tanto degustare, mangiare, camminare, assaggiare, un attimo di relax ci vuole. E da Autoctona e da Hotel di Bolzano questo è tutto, arrivederci alla prossima. Musica